Casa dell'Aviatore, siamo in una sede assolutamente prestigiosa per un premio altrettanto eclatante e anche direi eclettico a giudicare dalle opere d'arte che ci circondano. Sono le opere d'arte del fondatore del sensivismo, il maestro Aldo Delbianco, madrina del 49esimo premio Maria Pia Ruspoli. Allora, il taglio del nastro, le presentazioni, i ringraziamenti. Lei è una nobile donna molto vicina all'arte. Sì, io sono molto vicina all'arte perché se lei si conosce un po' il mio passato, io ho fatto già una trentina di film, quindi non sono nuova. La pittura è qualcosa di sublime, che mi entusiasma e ogni volta che mi ritrovo vicino, quasi a contatto con queste opere d'arte, veramente mi sento estasiata per dire la verità. Il pittore del bianco è veramente straordinario. Ci fa a vedere nella sua pittura qualcosa che si trova nell'invisibile. Lui ce lo porta nel visibile. Poter leggere questa sua pittura attraverso le sue immagini è fantastico, meraviglioso, che ci dà un senso anche di grande serenità, ci solleva, diciamo, dal terrestre. Esatto, dalla realtà che non sempre ha tutti gli aspetti piacevoli metabolizzati da questi quadri attraverso pennellate sia morbide che vigorose. E, Maria Pia Ruspoli, che cosa ha colpito di più? La forma o il colore di questi quadri così materici? Guardi, i suoi colori, le sue espressioni quasi mi fa ricordare Gauguin. Non so, non vorrei fare dei paragoni che poi diventano azzardati da un punto di vista, diciamo, intrinseco della pittura, dell'arte. Però qualcosa mi ha dato da pensare e io li trovo veramente straordinari, straordinari i colori, straordinari l'immagine, l'insieme. Veramente sono rimasta sorpresa. Ecco, Maria Pia Ruspoli, tra l'altro in questi giorni, proprio in questo, diciamo, contesto settimanale e quant'altro, l'attende, un appuntamento che di nuovo si ritrova ad avere a che fare con l'arte, che la riguarda molto da vicino. Perché parliamo della presentazione di un mediometraggio, perché non è né corto né lungometraggio, una sorta di documentario sulla storia di una vita molto particolare. Adesso lei descrivere quale. Allora, io veramente non sono stata l'artefice di questo. Mio marito ha voluto descrivere un po' il passaggio attraverso il suo tempo, della sua vita e anche dei fatti storici che si sono succeduti in Italia. Esattamente è un documentario, è un documentario che ha una vena storica, perché appunto è attraversare il tempo e quindi tutto quello che si è succeduto, storicamente parlando in Italia, lui l'ha vissuta in prima persona e quindi è la storia vista dalla sua parte, diciamo, e dal suo punto di vista. Sarà un appuntamento aperto a tutti o solo per la stampa che riguarderà? No, 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 è pubblico, è pubblico, non è a scopo di lucro, è libero, quindi è per tutti. Speriamo che possano appunto le nuove generazioni avere un quadro, un po' di tutto quello che è successo in Italia. Splendido, raccogliamo la testimonianza della nostra madrina d'eccezione e adesso sentiamo il maestro Aldo Del Bianco e la dottoressa Claudia Corina Benedetti. Grazie. Grazie.